Prendere tutti i pesci è importante in Far Cry 5 per guadagnare soldi, ricevere punti tratto e sbloccare il trofeo maestra della pesca di Hope County. In questo video vi farò vedere come sbloccare tutte le canne da pesca, dove si trovano i pesci e come catturarli. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Per sbloccare il trofeo dovete avere tutte e quattro le canne da pesca. Dovete trovare la prima, comprare la seconda, fare una serie di missioni per la terza e infine dovete battere i record delle regioni per la quarta. Vi farò vedere come ottenerle, dove controllare i vostri progressi e i posti dove pescare. Partiamo dalle canne da pesca. Potete trovarne una in un qualsiasi punto di pesca o vicino a un eventuale pescatore. Dovete anche acquistare il trattore della pesca, che vi permette di applicare le esche specifiche per il tipo di pesce. Per selezionare la canna tenete premuto il tasto L1 e cambiate la pagina con R1. Da qui potete cambiare il tipo di esca premendo triangolo. Lanciate l'amo con R2 e cominciate a tirare un po' alla volta con L2. Vedrete delle bollicine che indicano la posizione del pesce. Quando vedete che il pesce ha boccato, premete di nuovo il tasto R2 per agganciarlo. E tenete premuto L2 per tirarlo verso di voi, muovendo la levetta analogica a destra in direzione opposta rispetto al movimento del pesce. Se la linea verde diventa rossa, smettete di tirare e puntate la canna verso il pesce finché non diventa di nuovo verde, per rallentare la tensione. La seconda canna da pesca naturale può essere acquistata nel negozio per 800 dollari. Prendetela appena possibile. Questa vi aiuterà a prendere la terza. Per sbloccare la canna da pesca Wonder Boy dovete completare una serie di missioni per conto di Skylar, che troverete in questa posizione, nel negozio di ESC di Dilan. Completate le missioni, sbloccherete la terza canna. Andate nel negozio ed equipaggiatela. Ora, per sbloccare la canna da pesca Vecchia Bezzi e infine ottenere il trofeo maestro della pesca di Hope County, dovete battere tutti i record di pesca in tutte le regioni. In ogni regione c'è un posto con il tabellone dei record che potete consultare in qualsiasi momento. Allora, partiamo dalla regione di John Seed. Se andate a Falls End, nel locale Spread Eagle, dietro il bancone, troverete il tabellone di Holland Valley. La parte sinistra è dedicata alle trote, che sono uguali per tutte le regioni, mentre la parte destra è dedicata ai pesci esclusivi per la zona con dei pesi da battere. In questo caso abbiamo lo storione. Tutti i pesci devono essere catturati nel punto di pesca con la scritta difficile. Le quattro trote da trovare sono sparse per tutta la mappa. Dovete usare l'esca mosca finta. La prima è la trota toro, che può essere trovata in questa posizione. Il secondo pesce è la trota dorata e potete pescarla qui. Poi abbiamo il salmerino di lago, che si trova qui. E infine abbiamo la trota iridea qui. Sentitevi liberi di pescare anche nei posti alternativi. Una volta finito con i pesci comuni, potete concentrarvi su quelli esclusivi. In questo caso usate l'esca storione ibrido. Abbiamo lo storione palido, che si trova qui. E il pesce spatola qui. Vi consiglio di fare uno screenshot al tabellone, per non tornarci ogni volta per controllare il peso del pesce da prendere. La prossima regione è quella di Faith. Andate nella prigione di Hope County e girate a sinistra qui per trovare il tabellone di Herbain River. In questo caso a destra abbiamo tre pesci. Usate l'esca popper. Il Micropterus dolomio può essere pescato qui. Il Persico Trotto lo trovate in questa posizione. E infine Amblooplitus ruperstris si trova qui. L'ultima regione è quella di Jacob. Andate nella tana del lupo e dirigetevi verso il negozio delle armi, dove troverete il tabellone di Wildtail Mountains. Usate l'esca uovo di salmone. Il primo pesce è il salmone reale e potrete trovarlo qui. Il secondo è il salmone rosso, che può essere pescato in questo punto. L'ultimo pesce da catturare è il Temolo Artico e lo troverete qui. Una volta presi tutti i pesci sbloccherete il trofeo. Se la notifica non appare subito vi consiglio di usare lo spostamento rapido in una posizione qualsiasi. Iscrivetevi per altri trucchi e consigli come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposto scrivetele nei commenti. Qui sa se basta e ciao! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!